ciao per fare una buona pasta all'uovo fatta in casa servirà per ogni 100 grammi di farina rimaccinata di grano duro un uovo dopo andrà lavorata bene e poi si potrà iniziare a preparare la pasta dopo aver mescolato bene le uova insieme alla farina dentro il contenitore adesso l'ho messa sulla schianatoia e inizio a impastare affinché l'impasto venga bello liscio dopo posso iniziare a preparare la pasta adesso inizio a preparare la pasta oggi faccio i ricciolini intanto ho messo l'impasto dentro una bustina per evitare che si asciughi troppo con il mio taglierino rigato e un piccolo mattarello che è sempre in dotazione insieme al taglierino prendo dei bastoncini molto sottili di pasta che ho preparato e l'arrotolo sul mio mattarellino così dopo vado sul taglierino e giro così e preparo i miei ricciolini così così l'ultima parte l'attacco al resto della pasta e vado avanti a preparare i miei ricciolini inizio a preparare i miei ricciolini Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.